Allora, buonasera a tutti, benvenuti ad alcuni bentornati e dirò due brevissime cose che riguardano questo pomeriggio. Siamo arrivati al secondo appuntamento di queste nostre lezioni concerto di Musica Oggi, che nel titolo parlano anche di quello che è il gruppo aperto Musica Oggi di Firenze. La lezione di questo pomeriggio in particolare mi piace pensarla come una lezione duale, perché abbiamo lo stesso tema che si distribuirà in due giornate, cioè in due lezioni. Questo pomeriggio inizieremo a parlare della musica di Alessandro Sorbiati per affrontare il tema di questa lezione duale, che è quello dell'avvicinamento della musica contemporanea, che poi è ciò di cui si occupa il gambo da 41 anni, all'esperienza artistica dei giovanissimi, di chi inizia a studiare musica e comunque a chi è di giovanissima età. E in particolare oggi pomeriggio parleremo, anzi vi parlerà di Alessandro Sorbiati, del suo lavoro di grande interesse, dal titolo Corde e Martelletti, 100 piccoli studi per crescere al pianoforte, che saranno eseguiti, un estratto di questi 100 piccoli prezzi sarà eseguito dal giovanissimo Sebastiano Benzing, che è qui con noi, che ringraziamo tanto per la sua partecipazione, mentre domani la lezione continuerà con un approfondimento sui contenuti dei famosi Yatecock di Kurtag, eseguiti domani pomeriggio dalla giovanissima pianista Irene Accardo. Sebastiano Benzing ha, lo posso dire, visto la sua giovanissima età, ha 12 anni e Irene Accardo domani è una giovane pianista di 10 anni, questo proprio a testimoniare il fatto che possiamo in qualche modo parlare di musica contemporanea affiancata alla giovane età e questa è una ragione per noi di grande stimolo ad andare avanti e di grande interesse. Allora lascio la parola al nostro maestro Alessandro Sorbiati, che ringrazio in anticipo per qualunque cosa dirà. E buon divertimento. Dunque, innanzitutto grazie, facevo i conti, sommando la sua età a quella di Irene Domani, fanno un terzo, poco più di un terzo della mia età, sommandoli. Infatti è importante che il tema di queste due lezioni, oggi va bene, questi pezzi sono pezzi miei, ma il vero tema è il rapporto tra il giovanissimissimo esecutore e la musica d'oggi, nel senso che tutti noi, tutti noi, sia dal ruolo del compositore sia dal ruolo dell'esecutore che ha fatto tanta musica contemporanea, è una vita che ci sente dire, forse con ragione, attenzione perché se non si accorcia la distanza tra le tecniche, il pensiero, le modalità della musica recente e i giovani esecutori, attenzione che si forma una spaccatura, un vuoto, cioè la giovanissima generazione non segue nell'approccio alla musica d'oggi. Dico subito che però in realtà questa esperienza, altre esperienze di cui adesso dirò due parole della mia vita, mi dicono che il problema non è mai la loro generazione. Il problema non è per nulla polemico dire un dato rifatto, sono i docenti dei giovanissimi, cioè quando tra poco parlerò di questi pezzi, dirò che questi pezzi sono stati suonati la prima volta da 28 giovanissimi, eccetera, non convince, vi vorrete non c'è stato problema di convincere nessuno, ma condurre alle tecniche, al pensiero, al suono che c'è qui dentro. I giovani, fare questo non è costato nessun tipo di sforzo con delle sorprese straordinarie, ragazzini che trovavano suoni che io stesso non immaginavo, eccetera. Le diffidenze erano quasi sempre dalla parte dei docenti, quindi attenzione che unire i fili, allora, se, e questa è la grande cosa di Yatecock, di Kurtag, se si facesse un bel colpo di spugna sul fatto che uno incomincia subito irrigidito e inquadrato nel fatto che si incomincia con le cinque dita, eccetera, eccetera, ma se si incominciasse con un rapporto con il suono degli strumenti, con il suono, con un pensiero libero, con il suono, l'incontro col gesto, col suono, probabilmente molti problemi che continuano esserci non ci sarebbero. Per dire che questo argomento è sempre stato nel mio cuore, parto da una cosa un po' casuale quella, ma poi le dico una che non è affatto casuale, a farlo opposta, il mio primo pezzo pubblicato, ahimè, nel 1978, che per te è più o meno vicino all'unità d'Italia, in questo modo, come è proprio per te, erano sei piccoli pezzi per creare il pianoforte, vincitori di un concorso di composizione destinato a giovani esecutori, cioè dove la valutazione dei pezzi era non soltanto sulla qualità dei pezzi, ma sulla loro possibilità di essere suonati da esecutori fino a un certo livello di studi. Ma quella la lascio libera che è un po' per storia, invece cito come progenitore vicino, come antenato vicino di questa esperienza, una cosa indimenticabile che ho fatto tra 2011 e 2013, per me, non so per gli altri, per me sì, tra 2011 e 2013, cioè a Milano esiste, ne esistono anche altre, ma insomma un'orchestra che si chiama i Piccoli Pomeriggi musicali, perché sono nati sotto le luce dei Pomeriggi musicali di Milano, piccoli pomeriggi vuol dire che nessun esecutore è maggiorenne, cioè tutti minorenni, ma gli archi di quell'orchestra non superano i 14 anni, sono i fiati semmai che arrivano 16, 17 e nel 2011 l'amico direttore, come dire, colui che fa tutto di quell'orchestra, Daniele Parziani, mi chiese la trascrizione di un mio pezzo per l'orchestra in modo che potesse essere suonato da quei giovani, io quasi mi scocciai subito, perché sembra di dire mi fai una versione facilitata, io non voglio fare versioni facilitate, voglio fare qualche cosa che sia in pieno, che rappresenti in pieno il mio modo di pensare, ma il mondo del suono d'oggi, consapevole di tutto quello che è successo negli ultimi 50-60 anni, modulandolo su delle potenzialità tecniche, evidentemente, magari un pochettino più indietro, e allora controproposi un'altra cosa che, ripeto, per me è stata un'esperienza incredibile, parto dal titolo, quell'esperienza si chiamò Crescendo, guarda caso, ma a crescere, come dissi più volte, secondo me sono stato molto più io che non i ragazzini di quell'orchestra, perché furono otto pezzi per l'orchestra di formazione, non so chi ma altrimenti, per l'orchestra di giovanissimi, ma facendo così, loro facevano una stagione al Teatro d'Alverne di Milano con una quantità di pubblico che non vi potete immaginare, un po' perché c'erano genitori, un po' perché mescolavano un movimento di Mozart a magari una canzone di un film di Walt Disney, naturalmente, e io un po' vivevo con loro, ne vedevo le potenzialità, i punti debole, le difficoltà, ho cominciato a scrivere un primo pezzo, siccome loro esordivano a Halloween, ho pensato, volete i mostri, ve li do io, e ho dato tutte le tecniche stramparate, suoni battuti. Faccio solo questo esempio per essere breve ed arrivare qua, quel pezzo per mettere in scena un mostro, incominciava chiedendo agli archi di fare un suono soffiato, suono soffiato vuol dire o suonare sul ponticello o suonare con l'arco trasversale. Per lavorare questa tecnica con una importante orchestra da camera italiana, non dico quale, ci misi 20 minuti tra i mille sorrisini, ma non 20 anni fa, 7-8 anni fa, di tutti, con i ragazzini la cosa è stata, sentite, io devo sentire solo un soffio, crescendo di meno, ma un soffio, se sentite una nota è sbagliato. In due minuti, anzi scontrollavano, diciamo, lui ha fatto una nota, lui ha fatto una nota, non va bene, è sbagliato, in due minuti quella tecnica era patrimonio di tutti, ma senza nessun sorrisino. La prendevano come una nota vibrata sul violino, perché il loro orecchio e la loro testa, soprattutto, era aperta al suono, non era ancora chiusa in un mondo ristretto di suono. Ricordarsi sempre la meravigliosa frase di chi ha un po' aperto il mondo delle sonorità allargate, cioè Helmut Lackermann, che quando qualcuno diceva che lei ha allargato il mondo del suono, diceva no, 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 sono gli altri che l'hanno ristretto prima, il mondo del suono è sempre stato più largo, gli altri che l'hanno ristretto, no? Che è una frase stupenda, fintamente innocente, ma che la trovo stupenda. In quel caso, ad ogni pezzo, io vedevo, con l'orchestra, vedevo quali fossero i loro problemi, le loro difficoltà, e modulavo il pezzo successivo magari su una cosa di questo genere. E devo dire che rimane un'esperienza indimenticabile dell'incisione che venne fatta di questi pezzi, dove vedevo ragazzi che si comportavano con una serietà, un'attenzione, lavoravamo in termini non sindacali, cioè nove ore al giorno, cioè, vabbè, non c'era l'ispettore dell'orchestra, direi che non si può, e c'era un impegno e una concentrazione che raramente ho trovato nella mia vita, non è polemico contro gli altri, è una cosa bella rispetto a quei ragazzi che erano chiamati a dimostrare che loro erano capaci di fare quello che avevo scritto. Quindi era diventato una sorta di, indimenticabile era il fatto che non era la cosiddetta fila di viole, era un violista solo, ed era un ragazzino che si era caricato il ruolo delle viole, delle viole, faceva la prima, la seconda e la terza, aveva una mattina sulle gira su cui segnava tutto, ed era implacabilmente, adesso tra l'altro è un signor violista che sta suonando, di che cosa l'ho stato felice? Che quei ragazzi che hanno incontrato tutte le tecniche, i suoni, attenzione, con delle immagini sonore, naturalmente aiutandoli a dar vita a delle cose anche divertenti, 3, 4, 5, 6, 10 anni dopo, quando hanno avuto 23, 25, 27 anni, avevano già alle spalle una grossa esperienza per cui non si stupiscono più, no? Che è questo che vorrei da presto. Allora, arriviamo a corde martelletti. 2018, devo dire, questo, quello che vi ho detto fino adesso è per dire che questa non è un'esperienza che nasce in me così dal nulla. È sempre stata una cosa che, ho sempre pensato che questo sia un, non dico problema, uno stimolo della musica d'oggi, cioè riuscire a proporsi e proporsi a giovanissimi, cioè tutta la musica di tutte le epoche, se prendiamo Mozart, ha saputo modulare il proprio pensiero senza semplificarlo. I pezzi per i giovanissimi esecuoltori non devono essere scritti pensando che il bambino, tu non sei un bambino, che i bambini siano cretini, i bambini sono intelligenti come più di noi, bisogna scrivere esattamente come scrivono gli altri pezzi, modulando semmai su una differente difficoltà tecnica, ma è un altro discorso. Sempre restando che oggi questa gente qua a 12 anni fa tutti gli studi di Chopin, quindi il fatto che poi sia necessario semplificare, un amico grande pianista Antonio Ballista diceva che secondo lui c'è stato una mutazione genetica negli ultimi 50 anni, per cui in realtà ci sono valanghe di ragazzi giovanissimi che non trovano difficoltà a fare delle cose mostruose, che vuol dire che forse è successo qualche cosa a livello genetico, se no non si spiegherebbe. Ok, arriviamo a questo, aneddoto, però ripeto, ho detto quello che ho detto per dirvi che il retroterra di questa esperienza era già aperto, cioè era sempre stato mio desiderio. nel 2018, forse alla fine del 2017, non ricordo, un amico compositore, dato quello che sto per dire non posso dire il nome, però amico compositore che io stimo moltissimo, mi chiese di presentare un'operazione che lui aveva fatto in collaborazione con altri, cioè un'operazione di una serie di, se volete, pianistica didattica destinata a giovanissimi esecutori. data la stima che io avevo di lui, dissi di sì senza nemmeno vedere la cosa che dovevo presentare. Quando la cosa dovevo presentare in arrivo rimasi molto malplesso, perché tutta l'impalcatura, l'impalcatura di presentazione grafica era bellissima, ma i pezzi sembravano per chi, per i pianisti presenti, sembrano i rossomandi, cioè sembrano dei pezzettini di fine ottocento, inizio novecento, dai, ma non posso neanche dire proposte, perché non era vero, cioè secondo me non svolgevano il compito che dovevano svolgere, cioè proporre quello che è successo nel pianoforte e nella musica e nel pensiero musicale negli ultimi 50 anni. Naturalmente durante la presentazione, se siete chiamati a presentare una cosa e per il più un amico che ve lo chiede, anche se quella cosa vi ha deluso profondamente, non è che ne parlate male, perché ormai è fatta, e quindi dissi il meglio che, un po' arrampicandomi, così dissi, a quel concerto, a quella presentazione era presente la grande amica e vera sacerdotessa vestale del pianismo e della musica contemporanea che è Maria Grazia Bellocchio, fantastica per tutto quello che volete voi, quando c'era un piccolo rinfresco dopo questa presentazione e la vedi con una faccia durissima, mi è venuta vicino e mi ha detto, e tu hai parlato bene di quella cosa lì? Dico, ma ragazze, nota che uno accetta di presentare, non è che poi parla male. E ha cominciato a dire tutti voi, dicendo sì, comunque continuo a essere che voi i compositori non vi rendete conto che fino a quando non fate qualcosa che porti le tecniche di oggi, e voi vi lamentate, ma se non fate questo, andrò avanti, e mi ha detto in modo così aggressivo, tra l'altro un po' il pubblico, che ho iniziato ad arretrare e ho detto, va bene, lo faccio. Lei è rimasta un po' sorpresa e mi ha detto, come lo fai? Se me lo dici in questo modo, lo faccio. Io a quel punto ho pensato, farlo non vuol dire fare tre piccoli pezzi, proprio un contentino, se si fa, si fa, e sono nati questi cento pezzi di circa un minuto ciascuno, non sono progressivi come difficoltà, sono divisi in tre libri, perché sono i zeboni, mi ha fatto notare che se diventavano una roba così, quanto meno sono pubblicati in tre cose diverse, eccetera. Come sono pensati, come sono nati, come mia moglie sta, c'è stato un momento, nella primavera del 2018, in cui ero quasi invasato, ne scrivevo uno al giorno, prendevo un tappino, scrivevo varie idee da utilizzare e poi le facevo tutte, poi potevo andare anche fino a 200, credo, mi aveva preso l'anima questa cosa. Di questi cento pezzi, come sono fatti, non è che devo fare una presentazione editoriale, ma vi devo dire come è stata pensata l'operazione, ripeto, non sono in ordine progressivo le difficoltà, sì è perfettamente vero che i primissimi sono effettivamente più semplici e probabilmente gli ultimissimi sono un po' più complessi, ma non è un percorso così, è un percorso assolutamente oscillatorio. Diciamo, più importante, che circa il 50% sono, virgolette, utilizzano normalmente solo la tastiera del pianoforte, ma facendo delle richieste, posso farvi un paio di esempi, che la musica storica pone meno e che invece la musica recente pone di più. Ad esempio, se io faccio fare dei blocchi accordali, cambiando dinamica ad ogni accordo, ma moltissimo, cioè pianissimo, forte, mezzo forte, mezzo piano, fortissimo, eccetera, questo non fa parte del bagaglio pianistico dell'Ottocento a quel livello. È un esempio banale, ma serve per far capire cosa intendo per l'uso dei pedali, suonare con dinamiche differentissime le due mani, passare rapidissimamente da un tipo di gesto a un altro gesto, o da un metronomo a un altro metronomo. Sono tutte richieste normalmente in tastiera, ma che non fanno parte della tradizione ottocentesca, inizio novecentesca, diciamo. Però l'altro 50% grosso modo esplora, senza sconti e senza sconti, insomma, tutto quello che io conosco, però francamente i capelli centrali rigidi, insomma, ne conosco abbastanza, tutti gli utilizzi della cordiera, delle preparazioni, degli oggetti con cui suonare, eccetera, eccetera, che la musica degli ultimi 40 anni ha proposto, senza sconti, ripeto, la richiesta di utilizzare il corpo, la voce, le mani, i certi reti che incominceranno battendo sul corpo dello strumento, ad esempio, nel primo pezzo che proponiamo oggi. Qual è stata la grande sorpresa di questi circa 50 pezzi quando li hanno fatti allora? La prima esecuzione di questi 100 pezzi è avvenuta al conservatore di Milano, ma era nell'ambito della stagione del divertimento di Milano che però aveva coinvolto 6 conservatori, per meglio dire i conservatori che hanno accettato, perché naturalmente molti docenti e molti conservatori si sono rifiutati di fare questo. Erano 28 ragazzi sotto i 14 anni, per quello dico che è stata una delle serate più emozionanti della mia vita, più di un'opera a teatro, perché vedere questi ragazzini che si alternavano al pianoforte e facevano qualsiasi cosa in massima scioltezza, senza problemi, senza problemi che io avrei avuto, vi faccio un esempio solo, ma quello mi rimarrà per sempre in mente, uno di questi pezzi si chiama, poi parlerò dei titoli e vi dico un'ultima cosa sulla verse editoriale prima di passare al suono, il numero, se non vi taglio, 56, ma va bene, si chiama Cartoons, ogni pezzo ha un titolo fortemente evocativo di immagini, perché questo deve essere, cioè lo scopo è sempre abbinare un'immagine fortemente comunicativa anche per un giovanissimo esecutore, ha una necessità tecnica, eccetera, ha un'idea, ha una proposta tecnica espressiva, diciamo, si chiama Cartoons perché? Perché io ho disegnato una serie di faccine nel corso della partitura, ma si tratta di incominciare, la prima faccina era una faccina che lanciava un grido, una specie di munch, la bocca aperta, così, perché si tratta di incominciare con un urlo spaventoso e doveva fare una musica violentissima, poi doveva fare una specie di cosa di sorpresa, la musica lentava, poi doveva solo piangere, eccetera, doveva fare una serie di cose. Quando mi hanno presentato la ragazzina, io ho detto, beh, ma come farà? Mi hanno presentato la ragazzina più timida, forse, che io avessi mai conosciuto, ha parecchio i denti, appena appena diceva il suo nome, a me diceva, beh, è fatta, non ce la faremo mai. Questa, seduta a pieno forte, ha cacciato un urlo all'inizio che ha rovesciato le serie. Quando abbiamo fatto la prova generale con i genitori, a parte che non so cosa abbiano pensato i miei genitori, questo piccolo particolare, evidentemente lì lei si liberava di ogni forma di timidezza, tra l'altro la sua intelligentissima docente gliel'ha fatto fare questo pezzo, poi al saggio il piano forte e subito dopo un'invenzione e due voci di Bach. Quindi ha fatto un'invenzione e voci, poi è rimasto in questo modo ed è incominciato il pezzo. Perché penso che una delle cose da fare sia anche liberare, no? Liberare il proprio corpo nei confronti dello strumento, quello che forse non saprei fare. Va bene. Allora, titoli. Attenzione, a questa cosa è abbinata, a questa operazione, è abbinato, diciamo, si dice tutorial oggi, cioè un link in ogni volume, a una cosa che si trova in internet in cui Maria Grazia Bellocchio, che ho chiamata a co-vittima di questa operazione, visto che lei mi ha fatto iscrivere, che mostra in questo video come si prepara a quel modo il pianoforte, come si fa un armonico, cioè voglio dire una specie ovvia di guida, di know-how, per fare ogni tipo di tecnica particolare al pianoforte. I pezzi sono pubblicati in questo modo, cioè ogni pezzo è una facciata, rigorosamente, ogni pezzo è una facciata, di fianco, ogni pezzo ha il titolo, ho impedito con la forza a Sumini e Zebboni di copiare a computer i miei manoscritti perché credo che mai, io non permetto mai di farlo, però mai come in questo caso credo che fosse importante comunicare anche con la mia grafia, a parte che disegni con le faccine, voglio vedere come le facevano col computer, ma deve essere la grafia a comunicare, quindi pezzo col titolo e di fianco una cosa lunga così, come vedete, in cui dico il perché di quel titolo, qual è la tecnica, qual è la motivazione immaginativa dei pezzi. Ecco, questo è un pochettino il piano. Cosa facciamo oggi noi? Ve ne proponiamo gli ultimi dieci, perché sono cento, i tre libri non avevano ambizioni dantesche, però sono 33, 33, 34, forse vi ricorda qualcosa questa cosa, perché il centesimo pezzo è viceversa un pezzo un po' più lungo per pianoforte a quattro mani, perché ho pensato che l'ultimo messaggio da lanciare sia al giovane pianista non ritenerti solo al mondo, ma sappi che la musica da camera è fondamentale, cioè impara a suonare con uno di fianco. E allora lì ho messo tante cose un po' più ampie, perché andavano messi in un pezzo solo. Del tutto casualmente, quali sono i pezzi che ho chiesto a lui? Lui farà gli ultimi dieci, ma non perché sono più difficili, non sono tra i più semplici, ma c'è un caso. Lui è uno dei 28 pianisti che suonarono due anni fa in sala Puccini conservatorio e aveva fatto i numeri 90, 91 e 92. Quindi gli ho detto andiamo avanti. Poi ce n'era uno che non mi interessava che era il numero 97, dovendo selezionare qualcuno, quindi faremo 90, 91, 93, 94, 95, 96, 88, 98, 99. Ce ne saltiamo uno e lo sostituisco perché? Perché volevo proporre anche un'altra tecnica, cioè gli armonici, che vedremo qua. Adesso la differenza tra noi due è che io sono un chiacchierone terribile e lui invece è uno molto silenzioso, però tanto... Io potrei anche, non so se ti faccio uno scherzo, dopo semmai ti faccio parlare più tardi quando hai suonato un pochettino. Adesso io li farei insieme a lui nell'ordine, farei una cosa di questo genere, vi dico, anzi proietteremo la partitura, quindi, anzi possiamo già mettere la partitura del primo che è il numero 90. Ah no, il primo prevede tre preparazioni che però abbiamo già fatto per non perdere tempo e cioè c'è del blu-tac o bata-fix messo sulle corde più gravi in modo che il suono qua è sordo, messo nell'ottava centrale in modo che si insegna messi tutti, fai sentire la parte in modo che sia così, e nell'ottava iperacuta, le ultime quattro note, che diventa di legno. Ho un ritmo in testa cosa vuol dire? Vi leggo, vi leggo, non sto a, vi leggo la presentazione che ne ho fatto, cioè un medesimo ossessivo ritmo, un pattern della durata di sei quarti, meno di quattro secondi a questo metronomo, si ripete sedici volte, iniziando con il suono percussivo del bordo del pianoforte. La conquista del mondo delle note è progressivo, è come una serie di variazioni, cioè perché ad ogni pattern cambia qualche cosa. La conquista del mondo delle note è progressivo perché quando si passa in tastiera ci si imbatte nel suono stoppato con blu-tac o bata-fix della regione acutissima e gravissima. In entrambi i casi le note sono assai poco percepibili, quindi sono abbastanza affini al battuto che ha fatto lui in partenza lì. Ma poco a poco il suono normale, tra virgolette, del pianoforte e le sue armonie si rivelano culminando nella dolce melodia accompagnata della dodicesima e tredicesima battuta che sono queste qui due qua, che sono delle melodie, però se guardate la parte superiore fa tam, tam tam, tam tam e le crome in basso riempiono, riempiono i buchi sostanzialmente. Però a quel punto si scopre che anche il registro centrale che ho sempre evitato, perché ho sempre suonato ai lati, era preparato, si scopre che anche il registro centrale era preparato, il suono percussivo riprende il sopravento e si ritorna sul bordo del pianoforte dell'ultima battuta. Il ritmo sia sempre preciso e riconoscibile al di là delle varianti articolative e sonore. Qual era il mio scopo? Oltre al fatto di sentire il suono preparato eccetera eccetera, quello di chiedere chi suona, di saper cambiare musica ogni tre secondi, perché il ritmo è sempre lo stesso, ma di fatto sono tutte variazioni che velocissimamente si susseguono fino a un carattere pre finale totalmente differente fino a un richiudersi. Adesso lo facciamo una volta perché semmai ci fermiamo anche un attimo. Grazie. A presto. A presto. A presto. Grazie, ho lasciato un po' mentendo, perché lui non è un ragazzo, non è la miglia dei pianisti che ci sono in giro, un po' il trucco, nel senso che una delle cose stratosferiche di che si chiama Sebastiano e che lui non parla, però dicendogli una cosa ti guarda e la fa subito, ti guarda e non hai capito se l'ha capita, ma la fa immediatamente, quindi vabbè non vale, però posso dire però, qual è stato l'approccio? Mi hai detestato? Non adesso, due anni fa, quando la puoi dire? Questo è già una frase lunghissima che ha detto per noi, per Emanuela, mia moglie, è la sua docente di Musica alla Camera e le telefonate con Sebastiano sono favolose perché questo è un tipo di risposte, però finché suona così, va benissimo. Dunque, purtroppo non possono essere eseguiti, questi cento pezzi non sono fatti per essere eseguiti da capo a fondo, perché? Perché se no ci vorrebbe ogni volta il tempo di mettere e togliere preparazioni, fare delle cose. Quando li abbiamo fatti in Sala Buccini a Milano con un geniale idea, non mia ma dei miei ragazzi a Bellocchio, abbiamo usato due pianoforti, in modo che se c'era un cambiamento da fare da una parte o dall'altra, mentre veniva fatto il cambiamento da una parte, suonamo dei pezzi dall'altra parte, poi si evitava di vedere, io non volevo essere una specie di saggio, quel ragazzino sale, scende, sale, scende, si vedeva una continuità, tanto dall'altra parte, se facciamo il lavoro e se... quindi quello che possiamo fare per farne sentire più di uno per volta lo faremo, magari adesso per pura... anzi no, adesso sul primo lo faccio, te lo richiedo, lo sai, lo fai ancora questo? Grazie. 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 sentire davvero. Allora, partiamo dal numero 91. Il numero 91 è normalmente, non banalmente, ma normalmente in tastiera, si chiama Foglie morte. Vi leggo la presentazione e poi vi faccio vedere una cosa in partitura. Il titolo cita Debussy, secondo priudio del secondo libro, oppure Yves Montand. Un'unica sequenza melodica attraversa lentamente e stancamente della tastiera con il movimento dolce e irregolare di una foglia che cade, andando dal mi più acuto al fa più grave. Ogni nota melodica lascia delle tracce, due tipi di tracce. Una reverberazione ottavante che può provenire da ogni punto della tastiera, oppure una terza minore anch'essa disposta ovunque nel registro e che, poi questo lo spieghiamo, e che sfiora, tra virgolette, semitonalmente la nota melodica. Le mani del pianista vaghino sulla tastiera, senza mai perdere di vista, però, il fil rouge conduttore, la sequenza melodica che scivola verso il grave. Ora, dal punto di vista apparentemente è una partitura normalissima sul piano, diciamo, tradizionale, però la cosa difficile, voi vedete che sopra c'è una legatura che fa capire che sono delle frasi, non so se, dipende dalla distanza, io leggo le note da qua, ma voi non so, si inizia con una nota, scusa, puoi far sentire solo la stagione, solo la stagione dell'ordine di tropezza, senza fare... Interruzione, poi... vero... Ah, che ho fatto dicevo spessa, spesso, aspettate un altro, sennò, adesso sentite una serie di cose che non si trova a sentire. Scusa, riflatti pure della... la terza frase la terza frase e fare una cosa a non fare le terze minori a fare soltanto la linea melodica e le risonanze altavanti naturalmente la richiesta è che la sequenza melodica deve essere molto più evidente delle risonanze altavanti che deve essere pianissimissimo no no scusa scusa eccetera diciamo hai capito le terze minori cosa vuol dire che sfiorano se mettono al meglio vuol dire questo se la nota melodica è questa la terza perché la terza minore? perché voleva una consonanza dolce e infantile se volete se questa è la nota melodica la terza minore l'hai sentito lo è così lo è così lo è così una delle due note a distanza di semitono della nota melodica in modo che sia una consonanza ma come una specie di vetro deformante che mescola un po' le cose però la cosa importante è che uno dall'inizio alla fine della pagina senta sempre questa foglia che cade melodica e che tutto il resto o riverberando quella nota o facendo una dolce terza minore un po' sghemba avvolge questa sequenza che però è la protagonista grazie adesso ce lo fai tutto grazie a tutti 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 il motivo per cui si potrebbe dipende forse è possibile perché non siamo siamo perfettamente in orario con un treno giusto dopo ti chiederò una cosa di risonare consecutivamente 91 e 92 perché il numero 92 come dice mi può passare a quella dopo come dice il titolo come dice il titolo cioè risonanze oscure ecco di fioie morto è totalmente la conseguenza del primo peraltro se vi volete divertire poi guardare la data e la data e quello precedente è Cordoba 20 settembre è stata una specie di diario di un anno questa è Cordoba 20-21 settembre cioè volevo fare una specie di ho pensato questa foglia che cade e che è morta cioè che si appoggia sul fondo vorrei che generasse un eco vorrei che non sparisse subito che lasciasse una traccia prima vi dico quello che ho scritto poi vi dico qual è la difficoltà tecnica che però secondo me è una difficoltà tecnica in un certo senso che è un problema aperto nel senso che non so se posso effettivamente ottenere quello che penso io ho scritto un breve brano quasi la naturale conseguenza più che l'eco ecco una conseguenza del brano precedente i rituali i profondi rintocchi ripizzicati sulle corde oscure la mano sinistra che vedete non è da suonarsi in tastiera è sempre da suonarsi in cordiera pizzicando le corde i rituali profondi rintocchi ripizzicati sulle corde oscure che ruotano attorno al fa grave fa grave d'arrivo era quello d'arrivo del numero 91 sembrano essere la voce stessa di quella foglia caduta gli accordi in secondo piano che sincronicamente scaturiscono dalla tastiera avendo come nota più virgolette acuta l'ottava l'ottavazione del pizzicato oscuro ne costituiscono la natuale rivelazione armonica qual è il problema tecnico allora quello che tanto ti vuoi farei forse abbassi il momento intanto Sebastiano ha le braccia piuttosto lunghe cioè è più alto di me non so da 5 anni e può suonare questo brano seduto perché la mano sinistra deve pizzicare qua giù e la mano destra deve fare accordi qua non tutti per forza ci arriverebbero quindi qualcuno potrebbe anche dover suonare in piedi questo pezzo la cosa difficile è riuscire voi provate provate può anche provarci si tratta di pizzicare piuttosto forte lì perché se no la sonorità non regge l'accordo e nel contempo appoggiare pianissimo l'accordo della modessa cioè nella mia testa è pizzicato il soggetto perché è l'eco o è l'alone di quel fa grave della foglia morta di prima e gli accordi devono essere pienissimi ma io non sono capace di pizzicare forte qua e nel contempo di aggiungare pianissimo la mano destra insomma io spero sempre che ci riescano gli altri ma io non sono capace tra l'altro bisogna trovare la nota giusta come si fa in questi casi naturalmente insieme abbiamo messo sugli smorzatori degli adesivi con scritto il nome della nota per sapere dove è dove pizzicare forse facciamo una cosa facciamo l'esecuzione consecutiva di 91-92 cioè rifai 91 e poi facciamo 92 a base di legio e grazie ci lo porto indietro Cesare puoi rimettere sì sì l'hai già fatto la mia l'hai già fatto è che seguita la mia in qui l'hai già fatto l'hai già fatto c'è sì che Sous-titrage ST' 501 ... 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